I capitali, tutti qua! Non senti! 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 La prima è la circoscrizione Pace, con 31, 10 e 9, la seconda è arrivata la circoscrizione Pace, con 31, 24 netti, terza Corarella, con 31, 42 e 2, quarta Alberese, con 33, 22 e 8, quinta Marina, con 33, 32 e 4, sesta la circoscrizione Centro, con 33, 51 e 7, settima Barbanella, con 34, 0, 3 e 3, ottava Monte Pescali, con 35, 37 e 9, quindi il palio è stato vinto dalla circoscrizione Pace. L'assessorato allo sport del Comune di Grosseto, insieme all'ASCOM, hanno voluto risuscitare questa iniziativa, in onore del nostro patrono San Lorenzo, il palio raffigurante il martirio del Santo, già ieri sera ha preso parte al momento squisitamente religioso della nostra celebrazione annuale in onore del Santo. Tutti coloro che hanno fatto la gara questa sera, come rappresentanti dei quartieri e delle circoscrizioni della città, chiedono al Signore di proteggere il cammino della nostra bella città per tutto un anno, di renderlo un cammino fecondo di libertà, di verità, di pace e di giustizia. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Si procede quindi, ed è l'assessore allo sport Alberto Barazzuoli, alla consegna del palio al rione vincitore, che è il quartiere pace.